E ora parliamo di rugby per l'esattezza della Valcuvia. Contro la rovescia per l'inizio ufficiale della stagione di rugby, ad inizio ottobre ripartirà la Serie C, campionato in cui militeranno anche gli uni della Valcuvia. Al quarto anno di nascita la società punta sempre più in alto. È partito tutto dalla scuola, sono dei miei allievi a scuola di un po' di anni fa. Tre anni fa abbiamo provato a mettere insieme questa società e siamo andati increscendo, anche proprio come risultati. Il primo anno abbiamo perso tutte, il secondo abbiamo vinto 4-5, l'anno scorso abbiamo vinto 14 su 16, per cui è stata una cosa increscendo e quest'anno vorremmo fare un ulteriore salto di qualità. La terza squadra della provincia, che ora non ha nulla da invidiare a Varese e Tradate, ha in mente un progetto a lungo termine che aiuti a crescere i giovani e avvicini il più possibile le nuove leve allo sport con la palla ovale. La direzione è quella giusta e ci sono tutte le carte in regola per migliorare ancora. Quest'anno riusciremo a mettere in campo tre squadre, un under 14, un under 16 e un under 20, oltre alla serie C. Abbiamo programmi per cominciare a inserire nelle scuole della zona, per cercare di creare una base sufficientemente concreta per poter andare avanti, per avere ricambi in futuro.